Si riduce il numero dei vigili urbani di Salerno idonei a svolgere viabilità, controllo in strada e pattuglie. Con le visite mediche della Commissione di Napoli altri caschi bianchi non sono più idonei a lavorare in strada e sono stati destinati ad attività interne al comando di Polizia Municipale. Così è stato, proprio come tempo fa avevano temuto le organizzazioni sindacali di categoria. Ma ad oggi la situazione preoccupa perché diventa ancora più difficile garantire la sicurezza e le turnazioni. Ancora più complesso garantire pattuglie nelle ore serali e di notte, servizi mirati al contrasto dell'ambulantato abusivo e se poi si considera l'arrivo dell'estate anche la copertura dei turni con l'avvio delle ferie estive. Com'era preventivabile con le visite mediche siamo arrivati a un punto di stallo. I vigili colleghi sono andati a fare visita, hanno tutti avuto confermato l'esito della visita del dottore competente. In più si è creata una situazione di blocco in quanto parecchi di loro attendono che il comune metta a disposizione una struttura competente per procedere a ulteriori accertamenti che Napoli non può eseguire. Per cui si è creata una situazione in cui si è aumentato di qualche unità il numero delle persone che non possono più fare servizi in strada. Quindi non si è risolto il problema, si è acuito. Nel frattempo si è stato nominato da parte dell'amministrazione, così come relative al decreto legislativo 81 sulla sicurezza, la nomina del medico competente. Per cui adesso anche questi qui devono riproporsi, praticamente devono rifare quello che prevede la norma, le visite. Praticamente siamo in una situazione di transizione dove nel frattempo dobbiamo comunque continuare a garantire alla cittadinanza il nostro servizio che praticamente ci impone di sederci un attimo con l'amministrazione e capire anche quali sono gli intenti reali. A questo punto non c'è più alibi, bisogna cercare di fare in modo da creare una struttura che possa funzionare nel tempo. Innanzitutto noi abbiamo chiesto in un incontro che abbiamo fatto di recente qual è realmente l'organico ufficiale che l'amministrazione intende mettere in piedi la lavorazione municipale. Anche perché tutto diventa più difficile, addirittura adesso ci saranno tutta una serie di appuntamenti in città, arriverà l'estate, ci saranno le turnazioni per le ferie, c'è il problema dell'ambulantato abusivo sul lungomare. Riuscirete con questi numeri a far fronte alla sicurezza della città di Salerno? Certamente noi nell'incontro che abbiamo fatto ieri con il comandante abbiamo messo in evidenza proprio il discorso della sicurezza, cosa che stiamo facendo già da qualche settimana anche con gli altri sindacati, dove abbiamo messo in evidenza che il problema dell'ambulantato soprattutto sul lungomare non può essere esclusivamente una competenza della Polizia Municipale ma diventa un vero fattore di ordine pubblico per cui gli interventi si devono fare perlomeno con l'ausilio delle altre forze di Polizia. Non è il mero ambulantato il problema ma è il problema di ordine pubblico, di contraffazione, insomma ci sono una serie di illegalità che la Polizia Municipale praticamente non si può fare carica altrimenti significa praticamente ci guarnire la città da qualsiasi altro tipo di servizio quindi che l'amministrazione faccia una scelta su cosa vuole fare dei vigili urbani. E anche a parlarne poi dei turni serali e notturni? I turni serali viaggiamo come noi abbiamo sempre sostenuto praticamente con dei pattugliamenti di tre o quattro persone che non riescono a garantire neanche la sicurezza del vigile stesso immaginatevi della cittadinanza, sono queste praticamente scelte che noi abbiamo criticato al primo momento anche per quanto riguarda gli orari di lavoro, l'organizzazione del lavoro noi stiamo chiedendo da tempo un tavolo permanente serio con l'amministrazione dove eventualmente noi possiamo anche proporre, visto che conosciamo bene, delle soluzioni come per esempio istituire per la cittadinanza un punto nel centro di Salerno che possa essere un riferimento per le cittadini di Salernità l'abbiamo già proposto da tempo, purtroppo non c'è stata nessuna risposta né in positivo né in negativo grazie a tutti